Giorgia Tavita E da Lorenzo Anfuso, ben trovata Giorgia, ben trovati ai nostri amici all'ascolto e telespettatori. Tanta cronaca nell'edizione di quest'oggi, di questo venerdì 6 ottobre. Partiamo con il processo Capaci Bis, imprenditoria, politica e massoneria e giudici complici. Con 1581 pagine, i giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta celebrano il processo Capaci Bis sulla strage del 92 in cui perse la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone. Quattro i boss all'ergastolo di dettagli. A scontare il resto della vita, tra le sbarre, i boss Salvino Madonia, Lorenzo Timirello, Giorgio Pizzo e Cosimo Lonigro. Questo processo, hanno scritto i giudici, conferisce maggior forza alla tesi secondo cui ambienti esterni e a cosa nostra si possano essere trovati in un determinato periodo storico, in una situazione di convergenza di interessi con l'organizzazione mafiosa, condividendone i progetti ed incoraggiandone le azioni. A fornire ulteriori dettagli e a quell'indagine mai fermatasi, i collaboratori di giustizia Antonino Giuffre e Gaspare Spatuzza. Sarebbe stato proprio Giuffre, infatti, a raccontare che prima della strage, Bernardo Provenzano avviò una sorta di sondaggio in ambienti dell'imprenditoria, della politica e della massoneria e dunque esterni a Cosa Nostra. Nel 92, inoltre, Rina richiamò il commando che avrebbe dovuto uccidere il giudice Falcone a Roma, spostando la strage lungo l'autostrada di Capaci. Facciamo la guerra che poi viene la pace, avrebbe dichiarato il capo dei capi. Prima dell'attentato, scrivono sempre i giudici, sarebbe inoltre partita una vera e propria campagna di delegittimazione nei confronti del giudice Falcone, sviluppatasi grazie al fattivo apporto di settori, del mondo professionale, imprenditoriale, politico e di alcuni magistrati complici. Macabro ritrovamento quello dei carabinieri della compagnia di A.C. Reale a Pedara, nel Catanese. Il corpo senza vita di un pensionato incensurato, il 71enne Domenico C. Telli, originario di Catania, è stato rinvenuto all'interno di un tombino in prossimità della sua abitazione. L'uomo sarebbe morto a causa di un chiaro colpo di fucili alla testa. Il corpo era avvolto in un sacco legato con delle corde. Gli investigatori allarmati da alcuni vicini escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Ci spostiamo adesso nel Messinese. Avrebbero gestito una società annullando i precedenti provvedimenti che gli avevano sottratta. Restati due imprenditori, padre e figlio, di Caronia, in provincia di Messina, per trasferimento fraudolento di titoli e valori, sequestrati beni per oltre 1 milione e 200 mila euro. Alle prime ore del mattino a Caronia, i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, con il concorso della locale sezione operativa DIA, a conclusione di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Messina, diretta dal Procuratore della Repubblica di Messina, dottor Maurizio De Lucia, hanno dato a esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare e contestuale decreto di sequestro preventivo emessi dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale procura, nei confronti di due soggetti, padre e figlio, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di trasferimento fraudolento di titoli e valori. I soggetti colpiti del provvedimento sono un imprenditore e il figlio, entrambi residenti a Caronia. Il provvedimento restrittivo e il sequestro preventivo scaturiscono dai convergenti esiti di due distinte indagini condotte rispettivamente dai carabinieri del nucleo investigativo di Messina attraverso attività tecniche, pedinamenti e analisi economico-finanziare e della DIA di Messina che ha svolto accertamenti patrimoniali sulle società riconducibili e due imprenditori. Le risultanze dell'attività hanno consentito di documentare la creazione ad hoc di un'impresa intestata al figlio, ma di fatto riferibile al padre, sorvegliato speciale, già destinatario di un provvedimento definitivo di confisca in ragione della sua riconosciuta intraneità a Cosa Nostra Palermitana, al solo scopo di aggirare le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. Con il medesimo provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale, comprensivo, tra l'altro, di 23 autovetture di lusso e vari rapporti finanziari, fra cui conti corrente, depositi bancari e fondi di investimento, per un valore complessivo stimato in oltre 1.200.000 euro. E ci spostiamo ancora a vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Marsala che hanno generato una complessa rete criminale che gestiva, organizzava e amministrava lo sfruttamento di giovani donne costrette a prostituirsi. Vediamo. Una rete criminale che gestiva, organizzava ed amministrava lo sfruttamento di giovani donne, prevalentemente di nazionalità estera, costringendole a prostituirsi. Una vasta operazione dei carabinieri di Marsala che dalle prime ore di questa mattina ha portato all'arresto di due persone e al maxi sequestro preventivo di otto immobili. Le indagini del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri Lili Betani, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno permesso di accertare l'esistenza di numerose abitazioni sparse in tutta la città, adibite a regola d'arte per ospitare appuntamenti con ragazze costrette a concedere prestazioni sessuali in cambio di denaro. Sono finiti in manette la 48enne equadoregna Marisa Ivelin Hernandez-Ortiz ed il 66enne marsalese Matteo Giacalone, figure di spicco dell'organizzazione criminale. Nello specifico, i clienti interessati alle prestazioni sessuali si rivolgevano all'Equadoregna Hernandez, che dopo aver fornito ai clienti le qualità fisiche e professionali delle giovani donne, gestiva l'agenda degli appuntamenti e gli appartamenti presi in locazione sia a Marsala che a Mazzara. La donna si occupava anche di promuovere il business della prostituzione anche attraverso la pubblicità sui siti web e i giornali. Anche l'aspetto economico era gestito dalla Hernandez in prima persona. La Hernandez, che si allontanava spesso dall'Italia, aveva trovato in FT marsalese di 61 anni il suo sostituto, che amministrasse il tutto in sua assenza. Matteo Giacalone, invece, era la figura incaricata a reclutare le ragazze dedicate alla prostituzione. Bene, abbandoniamo la cronaca per passare alla politica. Doveva essere una mattinata di confronto al centro Piola Torre, tra alcuni dei candidati presidenti delle prossime elezioni regionali del 5 novembre. Assenti però Musumeci e Cancelleri, Claudio Fava attacca, presente lui. I due pizzetti scappano, si tratta di una vera e propria fuga. Il moderato Micari, anche lui presente, crede che gli avversari non abbiano nulla da dire e si reputa ottimista sull'accordo fra Megafono e Ercipelago Sicilia, che il centro-sinistra cerca ormai da 48 ore. Sentiamo le parole. Io sono vicino e gli altri candidati sono lontani. Continuo a fare confronti, in cui confronto me stesso con il pubblico, perché di Musumeci e di Cancelleri non c'entra. Io comincerei da questo, perché altrimenti fingiamo di fare una campagna elettorale dove alle nostre parole risponde il silenzio degli altri. Quando due candidati, come Musumeci e Cancelleri, decidono di disertare scientificamente tutti i confronti, vuol dire che non sanno cosa. Un governo che abbia un senso minimo della propria dignità, la dignità dei siciliani, debba avere come primo punto l'ordine del giorno. Ogni intervento polio consente a questi 22.000 ragazzi che ogni anno se ne vanno di restare qui. Punto. Naturalmente le liste vanno presentate alle 16, ma in questo momento io vi posso dire che c'è questa lista di coalizione, che è la lista del Presidente, nella quale hanno dato la loro adesione una serie di figure che vengono da tutte le diverse forze che compongono la coalizione. Sono queste ultime cose che faremo appena finisco qui, avremo una riunione conclusiva, quindi diciamo proprio per definire queste ultime cose. Intento alle questioni più politiche, piuttosto che quelle tecniche, nel senso che ho comandato lo staff. E ad ogni modo manca meno di un mese al voto, i candidati presidenti si preparano, dal Movimento 5 Stelle ecco arrivare i 10 punti cardine del programma, obiettivo estirpare la disoccupazione, intanto però dal centro-destra ancora nessuna risposta sulla questione Armau. Nel nostro programma non troverete ricette miracolistiche o trucchi, troverete tantissime idee realistiche ed ottimi progetti per i disoccupati, per gli inoccupati, per i giovani, i meno giovani e le imprese. Con questa premessa il candidato alla Presidenza della Regione per il Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, svela tramite un video postato sul suo profilo Facebook i 10 punti su cui si basa il suo programma, su idee di buonsenso da seminare in Sicilia, per fare nascere il lavoro ed estirpare finalmente la disoccupazione. I dati sulla disoccupazione in Sicilia sono da brivido, ha dichiarato Cancelleri, vanta un tasso attorno al 22%, mentre a livello europeo siamo nella top 10 delle regioni con più alto tasso di disoccupazione giovanile. Mentre dunque sul fronte 5 Stelle si procede a piccoli passi, al centro-destra sembra ci sia uno stop momentaneo. Ancora incerta, infatti, è la posizione dell'indignato Gaetano Armao dopo l'esclusione dal listino del candidato Nello Musumeci. Nel corso della conferenza tenutasi ieri a Palermo, il designato vicepresidente della Regione avrebbe riferito di dover prima discutere con il presidente Silvio Berlusconi e con il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, circa il da farsi. Per Forza Italia, i voluti da Berlusconi per il listino erano tre, ovvero Miccichè, Armao e Bernadette Grasso. Due su tre ce l'hanno fatta. Bisognerà dunque vedere ora quanto quell'uno valeva per il presidente. E voltiamo ancora a pagina. Firmato un protocollo di intesa tra Policlinico e Comune di Palermo che consentirà ai cittadini di fede musulmana di celebrare il rito funebre islamico in caso di decesso avvenuto all'interno dell'ospedale universitario. Il capoluogo è la prima ed unica città in Italia ad aver promosso l'idea di integrazione a 360 gradi. Ascoltiamo. La multiculturalità che ha un'applicazione nell'integrazione, quindi in un'accoglienza, in una perioda di accoglienza che vede il Policlinico, ma in realtà questo è un primo protocollo in Italia, ma spero che ci seguiranno altre aziende, di integrazione tra culture, la possibilità di rispettare anche i riti, anche le tradizioni e le culture di tutti, soprattutto in un posto particolarmente fragile e di grande fragilità che è un posto in cui si dà cura ai pazienti. Quindi credo che gli ospedali, in prima battuta, devono essere il centro e non sempre scontato di riferimento dove il paziente, al di là delle sue idee politiche, del suo colore di pelle, della sua identità religiosa, debba avere un'assistenza e una cura. Cambia forse che si vuole dare non soltanto un valore aggiunto, cioè in qualche modo valorizzare le esperienze particolari di un ospedale qui nella città di Palermo che già mette in atto dei percorsi virtuosi di sensibilità nei confronti di esigenze particolari di culture o di comunità religiose varie. E noi come comunità religiosa islamica italiana applaudiamo a questa esperienza del Policlinico di Palermo, ma non è l'unico, ma ci sono anche altri ospedali qui a Palermo e non soltanto a Palermo che fanno già una pratica di sensibilità, di sostegno. Appunto a Palermo c'è una rinascita dell'ebraismo, anche il Vescovo ha voluto appunto dare una vecchia chiesa per farla diventare una sinagoga, quindi la comunità ebraica avrà anche un luogo religioso. Quindi anche la città si sta sensibilizzando alla presenza ebraica in Sicilia e riconoscerla. Quindi nel mondo sanitario è importante, insomma, avere la stessa riconoscenza. E si svolgerà a Palermo oggi e domani il congresso respiratori meeting obiettivi e strategie per la gestione del paziente con problematiche respiratorie. Ascoltiamo a tal proposito l'intervista al dottor Vittorio Viviano, responsabile scientifico. Ascoltiamo. Oggi e domani un importante appuntamento, un convegno. Quale? Si svolgerà nei locali dell'hotel La Torre di Palermo, Mondello, un congresso sviluppato in due giorni, venerdì pomeriggio e sabato mattina. Tema principale è la pneumopatia cronico-ostruttiva, ma anche altro. I punti chiave sono l'asma grave, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, il loro trattamento. Importante è un corso di fisiopatologia respiratoria, quindi spirometria anche dal vivo con prova pratica. Un altro importante appuntamento è una videoconferenza dall'ospedale civico, dove saranno trattati un paio di pazienti con delle nuove tecniche per il trattamento dell'infisema polmonare e anche un trattamento invasivo chiamato EBUS. I rappresentanti scientifici del convegno sono Viviano Vittorio e Giuseppe Valenti. Il convegno verterà anche su un tema di carattere generale, nel senso che si organizzerà una tavola rotonda sul trattamento della BPCO nel territorio e quindi il paziente cronico, visto da un punto di vista globale. Protesta questa mattina a Palermo di centinaia di studenti dei licei e degli istituti del capoluogo contro la distruzione della scuola pubblica portata avanti dal governo nazionale targato PD. Queste le motivazioni è nesso, ovviamente. Tanti cortei partiti da licei e istituti hanno invaso le strade della città ricongiungendosi infine a Piazza Verdi. Sullo striscione d'apertura si legge non siamo i vostri schiavi fedeli vai tu in alternanza. È chiaro il riferimento all'alternanza scuola-lavoro, lo sfruttamento legalizzato contro l'aziendalizzazione e la privatizzazione delle scuole. Cambiamo decisamente argomento. Come ogni venerdì torna la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti, cultura, musica, mostre e spettacoli in scena in Sicilia all'interno della nostra Week 20. Continua per il weekend le vie dei tesori e le vie dei tesori kids. I più piccini potranno approfittare di visite animate, laboratori e merende. Fino al 29 ottobre, tutte le info sul sito. Venerdì e sabato l'appuntamento è con la cinquantesima stagione internazionale del Teatro Libero di Palermo. Fra teatro, danza, circo contemporaneo e performance con lo spettacolo e un loss of memory. Torna fino a domenica a Palermo il Festival delle letterature migranti. Centinaia di autori da tutto il mondo per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria e non più straordinaria della vita dei popoli. Saranno ben 19 le sedi che coinvolgeranno i luoghi più suggestivi della città. Tour Operator è il percorso espositivo itinerante che presenta opere di Massimo Sansavini realizzate con il legno degli scafi dei migranti a Palermo all'arsenale della Marina Reggia fino al 12 ottobre. Bonpietro, il paese del benessere, festeggia l'arrivo dell'autunno e si tinge dei suoi colori con la festa dell'autunno. La manifestazione prevede tre giorni di allegria, laboratori per bimbi e famiglie, degustazione di prodotti di aziende locali, cucina tipica e relax all'aria pulita del Parco delle Madonie. Gusto e tradizioni tramandate negli anni dai grandi maestri a San Cataldo la Sagra dell'Angiambella San Cataldese dei Grani Antichi in programma da venerdì 6 a lunedì 9 ottobre. Le vie di Agira si animano per tre giorni in occasione della prima edizione della Sagra della Cassatella in programma da venerdì a domenica. La Sagra offre ai partecipanti la possibilità di degustare il tipico dolce ennese. San Cono si anima per la ventitresima edizione della Sagra del Fico d'India da venerdì fino a domenica, uno dei momenti più importanti per il paese che celebra il suo frutto tipico, chiamato Bastardone. Lo sport e il calcio comincerà quest'oggi l'ottava giornata del campionato di Serie C ma le siciliane scenderanno in campo solamente domani. Vediamo allora il quadro completo. Acragas in casa con Bisceie alle 14.30 di domani, lo ricordiamo. La Sicola Leonzio in trasferta a Francavilla alle 16.30. Due ore dopo il Trapani alla provinciale contro la Regina e in serata il Catania a Cosenza alle 20.30. E poi domenica il posticipo, Monopoli-Siracusa alle 14.30, classifica che vede il Catania primo, può dunque anche allungare, il Lecce si guarda a 16, Siracusa a 13, Trapani a 11, un po' tardate Acragas e Sicola Leonzio rispettivamente a 7.5 punti. Nella palla a canestro femminile sono giorni convulsi per la Irene Ragusa che dopo la sconfitta all'esordio in campionato prepara un tour de force che la vedrà affrontare domenica la palla a canestro Broni. Il tutto mentre Davide Passalacqua, fratello minore dell'ex presidente, Gian Stefano Passalacqua prende le redini di nuovo presidente. Intanto in A2 l'Andros Palermo Vittoriosa nella prima giornata prepara l'esordio casalingo di domani al Palamangano alle 17.00, Ascoltiamo dunque le parole del coach Maurizio Giordano. Sono contento di aver iniziatto bene con una prima vittoria. Di certo per noi non solo è stata la prima partita di campionato ma nella realtà è stata una prima partita vera e propria perché non abbiamo avuto possibilità di fare grandi amichevoli e quindi questa è stata una piccola difficoltà. tant'è che ci sono state cose fatte bene e tante altre da sistemare e da migliorare. Sabato abbiamo in casa le 17 faenze che è già una buona squadra e lì sarà più interessante vedere come ci muoviamo, come difendiamo e soprattutto come giochiamo di squadra. Speriamo di vedere un bel nutrito numero di persone che vengono anche solo per la prima visto che c'è la novità e soprattutto mi auguro di vedere tutte le nostre ragazze delle giovanili venire qui perché è un piacere vedere giocare ragazze con una certa esperienza e bravura come le nostre. E con lo sport è tutto, vi lasciamo alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Amici di Trevi Meteo, bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà una zona di bassa pressione presente sulla Grecia bassa pressione che coinvolgerà anche le nostre regioni meridionali invece l'anticiclone della Zorre torna a espandersi verso il centro nord dell'Italia. E così come nuvolosità ritroveremo degli annuvolamenti al sud annuvolamenti che come vedremo tra poco porteranno anche qualche acquazzone dalle altre parti invece ampie zone di sereno. Come piogge, qualche pioggia appunto è prevista nelle regioni meridionali soprattutto quelle peninsulari non escludiamo però qualche acquazzone anche sulla Sicilia tirrenica un po' di variabilità è presente anche sul medio adriatico. Quindi in definitiva giornata molto variabile e instabile al sud dove tra l'altro vi segnalo anche parecchio vento vento dai quadranti settentrionali qualche nuvola sul medio adriatico per il resto tempo bello temperature in diminuzione ce ne accorgeremo soprattutto a inizio giornata. Con questo è tutto per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com grazie a tutti Grazie.